21 anni dopo il referendum in cui 31 milioni di italiani chiesero di abolire il finanziamento pubblico ai partiti, esito che fu aggirato col sistema dei rimborsi elettorali, questa è la volta buona. Col voto definitivo alla Camera di oggi, 312 sì, 141 no e 5 astenuti, diventa legge il decreto del defunto governo Letta che chiuderà il rubinetto dei soldi pubblici per i partiti. Usiamo il verbo al futuro perché le norme che stiamo per illustrarvi entreranno in vigore solo tra quattro anni, cosa che ha fatto gridare alcuni allo scandalo, alla truffa come i grillini che hanno esibito dei cartelli con un Renzi col naso di Pinocchio, PD e NCD esultano a Fratelli d'Italia a prova con riserva, Forzia e Lega votano no, come all'altra estremità, Sinistra e Libertà che parla di un'occasione perduta per riformare il finanziamento. Dal 2017 i partiti dunque potranno sopravvivere in due soli modi, con le donazioni volontarie dei cittadini al momento di firmare la dichiarazione dei redditi, meccanismo simile a quando si danno i soldi alle varie confessioni religiose, solo che qua la quota è del 2 per mille e tramite le donazioni tetto massimo 100.000 euro che saranno detraibili al 26% tra i 30 e i 30.000 euro. Questa la carota. Il bastone voluto dal legislatore impone ai partiti, anche se fa sorridere doverlo precisare nell'Italia degli anni 2000, democraticità, trasparenza e democrazia interna, l'iscrizione in un apposito registro e la possibilità di visionare i bilanci e le varie voci di spesa sul sito internet. Il resto della legge è un mix di strette su antipatici privilegi, anche le sedi dei partiti pagheranno l'Imu e di concessioni come gli ammortizzatori sociali dipendenti dei partiti che verranno licenziati, sicuro contraccolpo dell'improvviso distacco dalla mammella del finanziamento statale.